E lui comunica al suo corpo per tradurre il mio pensiero. La vita per la vita, attraverso Mario del Giglio. Domanda Ci potreste approfondire il concetto del perché lo spirito è intelligente pur non avendo il cervello? Risposta Nella premessa ho spiegato questo che volevi sapere? Domanda Mi sembra di sì ma questa domanda mi è stata rivolta da un'altra persona non presente. Risposta Sì, io sono fuori di voi e devo manifestare la mia presenza. Come faccio ad esprimere quello che sono, la mia individualità, la mia intelligenza se non ho un corpo e non parlo il vostro linguaggio? Io mi servo di un mezzo, parlo al suo spirito e lui comunica al suo corpo per tradurre il mio pensiero. Il pensiero è uno in questo momento. Io do le mie idee al mezzo. Vi faccio un esempio. Io parlo una lingua che non capite e mi servo di un traduttore che simultaneamente traduce il mio pensiero, la mia volontà, con il suo essere incarnato perché sono io che parlo a voi. In questo momento ci sono fratelli qui che non hanno bisogno delle parole e dei suoni per comprendere. Percepiscono il mio pensiero che emano come vibrazione dovuta all'essenza spirituale. Abbiamo già spiegato cosa vuol dire. Ognuno, in quanto elevato, percepisce l'altro. Quindi non occorre un mezzo con la mente per percepire e dimostrare l'intelligenza. Come vedi, lo avevo detto nelle premesse e nessuno di voi, compreso il mezzo, sapeva di questa domanda. Allora, chi ha percepito questa domanda? Quale mente, se non la mia spiritualità, che è al di fuori di voi? Ho dimostrato che la mia intelligenza è fuori di voi e che non ha bisogno del corpo per essere intelligente. Lo spirito domina la materia e non la materia lo spirito. Ricorda. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti